Noi siamo in materia, crediamo fortemente che in ogni canzone ci debba essere un messaggio. Noi tutti siamo fatti, siamo composti di quello che siamo stati in passato. E il nostro compito più arduo è far sì che il nostro passato spiacevole, quello che non potremmo ricordarci, è usato per essere persone migliori e far sì che non rimanga solamente ricordi il cemento. Adesso che si fa, dove stai? In piedi, in un'unità, sono le cose più diversi, i tempi diversi, i massi dietro i suoi resti diversi. Ritmo del stesso bento, io rivedro l'occuantaggio, nel suo modo ricordo rimane un regno. Chi sia chi è forte, che si è piatto qua, se hai giuntato sul segno, viene la tua volontà. Adesso ho compreso che il verbo restare a tutti i punti di applicazione Mi chiedo soltanto se unendo i concetti non possa combinar qualcosa che vuole Partendo dal punto di restare fermi, colpire, tornare in stazione Trasinando la testa e guardando in avanti si vince la rivoluzione Ricordi del cemento, non li trovo qua Nessuno fa un ricordo, rimane da lì Chi c'è chi le porte, trascini il piatto qua C'è il risultato, c'è il serio, della tua volontà A presto, c'è il risultato, c'è il risultato, c'è il risultato Io ormai restano i tuoi pregi Ricordi del cemento, non li trovo qua Nessuno fa un ricordo, rimane da lì Chi c'è chi le porte, trascini il tuo cuore C'è il risultato, c'è il serio, della tua volontà Grazie